Rimaniamo concentrati sulle cose reali, che interessano agli italiani. Per superare la crisi pandemica bisogna portare avanti in tempi celeri la campagna di vaccinazione. Ed è quello che stiamo facendo, infatti ad oggi abbiamo già vaccinato oltre 260.000 italiani e siamo secondi tra i paesi ure. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. Contemporaneamente bisogna concretizzare i progetti a sostegno di imprese, famiglie e lavoratori che saranno finanziati con il Recovery Plan. Abbiamo stanziato ristori e sostegni, ma bisogna fare ancora di più, aggiunge il Ministro degli Esteri. È il momento della ripartenza e la parola d'ordine deve essere responsabilità. Avanti, non c'è tempo da perdere, conclude. Grazie a tutti.